Grazie a tutti! Nicola è tutto opposto, dai Nicola e lui si gira, oh sei zero, sei zero, sei zero, mentre ballava, sei zero, sei zero, la risposta è stata? Sì, quello è stato dopo, due anni dopo, quella è stupenda, la testata è stata memorabile, io me la sono persa purtroppo, non dillo a me, è stata scena memorabile, usciamo tutti quanti, mi è arrivato il messaggio, la mattina in spiaggia, io non mi arriva il messaggio suo, scena memorabile, immorabile, fai conto, erano tutti fuori, ma a un certo punto sento la Francesca a fare, come Nicola e io, Nicola ha tirato una testata a Claudio, guardo, vedo un cazzo, che è così, no? Allora, a un certo punto vedo Claudio è steso per terra e Nicola, te l'avevo detto, te l'avevo giurata, che te l'avevo giurata, che te l'avevo giurata, perché l'ha preso qua, a Claudio si è fatto un cazzo, e Nicola si è invece spaccato qua, perché l'ha preso qui i denti, quindi era quella, Ciao, io te l'avevo detto, te l'avevo giurato, te l'avevo giurato, te l'avevo giurato, te l'avevo gi...! Poi vuoi giurarti con il tuo logo, no? quantificato! noooohl nooooooooo etricato comando i denti, perché 병iava mozzo in mente però Nico si mi ballava followed by men a fatte No al 81 che cazzo presentata quando si è fatto grado continui tutti e due perché chiaramente non fa male ti avevo avvisato io dico dai ragazzi state calmi io con molta muscialanza arrivo dai state calmi ragazzi questo lavoro è dividente tu San Luisino io saluto per favore